Ciao amici benvenuti in questo nuovo video io sono Alessio e oggi parliamo di editing fotografico te l'ho già detto già in altri video che vado a fare praticamente spesso mi rendo conto di applicare delle tecniche che per me sono veramente scontate ma poi mi rendo conto che per tanti di voi tanti magari di quelli che si approcciano all'editing fotografico insomma non è poi così scontata così semplice da intuire quindi voglio appunto farti vedere questa tecnica che mi sono reso conto applico praticamente su ogni fotografia in modo totalmente naturale ma è che quella cosa che ti dà proprio quella marcia in più o meglio è uno degli elementi che ti rende la foto più interessante dal punto di vista visivo quindi adesso andremo sul desktop mio computer ti farò vedere come si applica e soprattutto potremo vederla sia su capture one e sia su adobe lightroom prima di iniziare come sempre ti chiedo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto e ovviamente di condividere l'episodio se lo riterai interessante ma adesso andiamo sul desktop mio computer e vediamo di cosa si tratta ed eccoci qui sul desktop mio computer come vedi una serie di immagini che utilizzerò come esempio per vedere come incide questo intervento sto lavorando su capture one ma vedremo che l'intervento si può applicare facilmente anche su adobe lightroom classic cc come puoi notare dalle stesse identiche immagini o su tanti altri software che permettono di applicare questa tipologia di intervento che ti faccio vedere l'intervento è veramente molto banale consiste nell'applicare una maschera gradiente radiale che in sostanza ti permette di fare tante cose ma principalmente schiarire oscurire delle date aree della scena e andrò a utilizzare questa tecnica per schiarire leggermente una data zona dell'immagine che sto lavorando per attirare l'attenzione o su una parte specifica dell'immagine o generalmente sulla parte centrale e come ti dicevo si può applicare su praticamente tutti i software che hanno questa funzionalità di mascheratura e quindi iniziamo appunto vedendo questa immagine queste immagini sono già state editate quindi hanno già subito un processo di editing tipo questa l'immagine iniziale era questa qui dopo e questa ho applicato dei vari interventi tipo qui sul cielo o sulla parte qui sotto per scurirla un pochino adesso vado ad applicare una maschera gradiente radiale però attenzione rispetto a quello che faccio normalmente io ti consiglio di ridurre un po l'esposizione prima della tua immagine generale adesso qui dipende anche un po da come tu fai le fotografie io tendenzialmente tendo avere delle immagini leggermente sottoesposte tendo a preservare molto le luci quindi io parto un po avvantaggiato perché le immagini quando vado a lavorarle solitamente sono già leggermente sotto esposte nel caso in cui tu invece lavori già con delle immagini con l'esposizione buona fin dall'inizio allora io ti consiglio di applicare questa cosa vai a selezionare il livello immagine qui stiamo parlando di capture one quindi se vuoi imparare utilizzarlo ti consiglio di seguire il mio corso trovi tutte le informazioni qui sotto nelle note dell'episodio ma in sostanza livello immagine vado su esposizione e vado a ridurre un po l'esposizione dell'immagine rispetto a come era inizialmente e vado ad applicare una maschera gradiente radiale quindi vado qui creo un livello di regolazione vuoto clicco qui su disegna maschera gradiente radiale e prima di creare la maschera tasto destro devo accertarmi che l'opzione disegna maschera dentro si attiva ti consiglio anche di attivare la visualizzazione della maschera cliccando qui eventualmente tasto m per visualizzare in modo rapido quindi tasto tastiera m e vedi che compare qui l'icona arancione e vado a creare la mia maschera ecco che appunto con la visualizzazione della maschera puoi vedere facilmente come applicata questa maschera gradiente e radiale una cosa importante da fare è sfumare al massimo questo passaggio della maschera in modo appunto che sia appena appena visibile perché quella cosa in più che da una marcia in più all'immagine ma non deve essere proprio così impattante in modo netto con il passaggio alle sfumature quindi ad esempio con capture one vado qui sul cerchio più interno e lo porto al valore minimo eccolo qui in modo da avere la sfumatura massima dopo posso anche allargare o ridurre per cambiare l'incidenza adesso posso anche togliere la visualizzazione della maschera premendo il tasto m scomparirà e cosa vado a fare vado a lavorare o con luminosità o con esposizione dipende un po da quale i due strumenti preferisci utilizzare ad esempio con luminosità vado ad aumentare un po la luminosità veramente poco posso anche aumentare magari un po il contrasto se preferisco o rimozione foschia sono delle tecniche che puoi utilizzare apparentemente non è cambiato tanto rispetto a prima ma adesso ti faccio vedere prima o dopo di quel specifico intervento e vedi come l'impatto sull'immagine cambia moltissimo infatti qui su questo livello di regolazione che ho appena creato guarda prima dopo prima dopo un semplice intervento maschera gradiente radiale che ti dà quella marcia in più all'immagine la rende più interessante e se non ci credi andiamo a vedere con un'altra immagine vado a prendere questa immagine qui sembra anche questa tutto sommato a posto è già stata editata guarda che serie di interventi immagine iniziale era questa dopo è questa ho schiarito varie parti dell'immagine come ti dicevo io tendo a lavorare un po sottoesposto quindi vedi che l'immagine generalmente è un po sottoesposta e cosa vado a fare vado a ridurre un po l'esposizione qui di default il software e l'intervento me l'aveva fatto aumentare un pochino vado a ridurre un pochino e vado a creare un nuovo livello di regolazione con la funzione disegna maschera gradiente radiale sempre all'interno mantiene le ultime impostazioni fatte vado a creare questa maschera m per visualizzarla sfumo al massimo vado ad applicarla più o meno qui posso anche allargare molto se lo desidero ok tolgo la visualizzazione della maschera e andiamo ad aumentare un po la luminosità qui oppure potrai lavorare un po con l'esposizione ok andiamo a vedere qual è l'impatto prima dopo prima dopo ovviamente lavorando sulla maschera io potrò dopo decidere magari di migliorare l'intervento decidere dove posizionarlo se voglio scrivere più delle zone rispetto ad altre vediamo prima dopo quel piccolo intervento che fa un po la differenza vediamo come lavorare con adobe lightroom perché anche lì si può utilizzare questa funzionalità anche se agisci in un modo un po diverso perché appunto ha delle funzionalità diverse forse un po più comodo su adobe lightroom rispetto a come funziona su capture one quindi andiamo su adobe lightroom andiamo a prendere questa immagine e facciamo lo stesso tipo di intervento come vedi quell'immagine è molto luminosa quindi prima cosa che vado a fare vado a ridurre un po l'esposizione di questa scena quindi con questa immagine che ha già subito degli interventi prima dopo vedi ha già avuto degli interventi vado sugli interventi di sviluppo di base su tono e vado a ridurre un po l'esposizione e adesso vado ad applicare una maschera gradiente radiale quindi vado su mascheratura vedi che ci sono già delle maschere applicate crea una nuova maschera una maschera sfumatura radiale qui sulle opzioni della maschera posso anche invertirla ma di default viene applicata all'interno quindi vado a creare qui la maschera come vedi l'area rossa è applicata all'interno la posizione dove voglio e qui devi portare la sfumatura al massimo puoi agire direttamente sulla maschera o agendo su un selettore che ha disposizione sulle opzioni infatti qui puoi agire in questo punto centrale per ridurre la sfumatura oppure direttamente dalle opzioni sfumatura la porti al valore massimo 100 in questo modo possiamo avere la sfumatura massima e poi fare le dovute regolazioni e adesso vado qui su tono e vado ad aumentare un po l'esposizione aumentiamo l'esposizione ok dopo posso anche fare degli interventi un po sul contrasto oppure vado ad applicare degli effetti come un miglioramento rimozione foschia o chiarista insomma ci sono vari metodi che puoi utilizzare per ottimizzare qui la parte centrale ma il concetto è guarda prima dopo prima dopo l'immagine sembrava buona all'inizio e adesso con questa applicazione con questa maschera gradiente radiale sulla parte più interessante dell'immagine ha quella marcia in più ha la ciliegina sulla torta come dicevo in più occasioni per rendere l'immagine un po più interessante per attirare l'attenzione dell'osservatore direttamente in quella parte proviamo con un'altra immagine andiamo a prendere ad esempio questa qui prendiamo questa immagine qua e facciamo lo stesso tipo di intervento come puoi notare questa ha già subito veramente tanti interventi sulla mascheratura tant'è che l'immagine all'inizio era così eccola qui e dopo è così prima dopo vedi che ha subito una bella serie di interventi per migliorare anche l'esposizione delle aree qui un po più in ombra ebbene anche qui vado sull'esposizione dal punto di vista generale la riduco un pochino non troppo dopodiché vado a creare una maschera aggiuntiva una maschera radiale sempre con la sfumatura all'interno vado ad applicarla in questo caso è un intervento generale diciamo quindi va bene qui al centro e vado a schiarire tono esposizione schiarisco un pochino e vado anche magari a dare un po più di contrasto e vado su effetti e gli do un po' di chiarezza anzi rimozione foschia meglio chiarezza a zero rimozione foschia mi toglie un po' di quell'alone al centro ok andiamo a posizionare un po' più giù andiamo a vedere prima o dopo prima dopo prima dopo è un intervento veramente minimo in quest'ultima immagine ma rende comunque l'idea di come puoi migliorare l'editing delle tue immagini semplicemente con l'applicazione alla fine di una maschera a gradiente radiale in questo modo con questa procedura se andiamo a vedere ad esempio qui su adobe lightroom vedi che avevo già applicato altre maschere radiali per schiarire delle zone eccetera ma questo intervento mi permette appunto di andare a fare degli interventi specifici sulla parte dove voglio attirare l'attenzione dell'osservatore prima dopo prima dopo ancora più si nota questa cosa se andiamo a cambiare la percentuale di visualizzazione invece al 50% portiamolo al 33 quindi una visione un po' più in piccolo prima dopo un intervento molto semplice ma che ti dà quella marcia in più io l'applico praticamente su tutte le mie fotografie su tutte le mie immagini vado ad applicare questa tecnica se ti è piaciuta fammelo sapere andando qui sotto nei commenti lasciandomi il tuo feedback a me non resta che ringraziarti per avermi seguito fino a questo punto ringrazio tutti i sostenitori del mio canale, del mio progetto, i miei patrons trovi tutte le informazioni qui sotto per eventualmente diventare anche tu un patrons cosa offro ad esempio per i patrons offro questi file raw sui quali possono esercitarsi per testare le stesse cose che ho fatto io per vedere appunto come cambia l'impatto di un intervento sulle proprie immagini per questo video è tutto, ti ringrazio ancora per avermi seguito metti un like al video, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao ad Alessio